E bella a tutti ragazzi, sono Gio e bentornati, sono a un nuovo video di Pokémon GO! Bomberoni, anche oggi partiamo a bombissima, guardate qua a fianco, Oscar mi ha invitato a un super ride, mega ride, no ma che mega ride, leggendario, leggendario, Lugia ragazzuoli, Lugia, Lugia, l'abbiamo già trovato, avete visto? Nei giorni passati avevo già trovato il cromatico, lo shiny rosa, è bellissimo, ma attenzione raga, attenzione, Oscar ci porti fortuna, un bello shiny da Pavia, vediamolo, no! Oh, 2060 anche, scarsissimo, Oscar, ma questi shiny, l'anno scorso me ne dai parecchi, dove stanno? Et voilà, eccolo qua, appena catturato, raga, non sono riuscito a raddoppiare, sono dovuto andare per forza con bacca dorata, raga, anche se è uno schifo, uno schifezzolo, eccolo qua, teniamolo, attenzione, gli vi dai! Che Oscar, raga, stamattina ci siamo messi lì un attimo, praticamente quelli vecchi dell'anno scorso, con su praticamente questi fiori, raga, sono leggermente differenti, infatti fateci caso, andate a controllare, se giocavate già l'anno scorso, chiaramente, raga, in alternativa, in internet si trova tranquillamente, cioè io non lo so, non lo so che cacchio, metteteli uguali, infatti eravamo lì a dirlo, eravamo lì a dirlo. Vediamo allora, raga, una, abbiamo una gioca con, no, non è dell'evento cacchiarolla, ma qui cosa ci, Pikachu, normale. Et voilà, bomberoni, ci siamo con le prime huevos, partiamo le quattro, raga, dai, vediamo un attimino se scugli, no, porca di quella miseriaccia, dai la prima, dai, 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 azzurri, non vogliamo vederlo, vogliamo quelli esclusivi, noi ragazzuoli, dai, 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 caramelle maril, fatte, un altro, scherziamo, scherziamo, almeno un cento, e speriamo che almeno ci sia uscito un bel cento di azzurri, ma non me ne faccio nulla, raga, dai, ui, tanta roba, tanta roba che c'è il solito bug, comunque sia, dov'è la coroncina di fiori qua, raga? Eh, vabbè, vabbè, dovrebbe essere l'ultima, quindi già la quarta, quarta, dai, 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 riolu, eccolo qua, cabellino, raga, cabellino, finalmente, finalmente sono andato a schiudere un riolu, che è il primo anche, 5,57, punti lotta, dovrebbe essere scarsino, però, 93%, raga, un bel 93%, rinominiamolo subito, mi va più che bene, eccolo qua, 93%, fosse stato shiny, questo qua, il mio più forte di riolu, ormai, lucario, raga, shiny, è un bel 91%, quindi adesso, huevos, huevos, come siamo messi? Così, ho messo anche queste qua, raga, nelle incubatrici lì, perché non trovo solamente quelle da 2 km, cioè, è una cosa pazzesca, anche lì da 10, ma che cavolo mi dai quelle da 10? Giriamoci qua, giriamoci qua, che dopo, comunque sia, vado anche a conquistare un po' tutte le palestre, raga, suoli, vediamo qua cosa ci dà, zero huevos, vabbè, sapete cosa, raga, entriamo in questo ride, dai, facciamoci questo nuovo cutie, eccolo qua, che non l'ho ancora affrontato da ride, visto che almeno il biglietto giornaliero andiamo a sfruttarlo, raga, perché lo tengo sempre lì, siamo dentro, dai, aspettiamoci un bel E voilà, cutie, appena sconfitto, eccolo qua, 484, se ho visto bene, raga, non so quanto sia il 100, ma speriamo sotto il 500 PL, speriamo, speriamo, raga, dai, facilissimo, con questi da tirare giù, eh, chiaramente, dai, 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 vediamo un attimo, non c'è shiny, non c'è shiny, raga, quindi, se ho visto bene, vediamo un po', 484, locatura e lo valutiamo. E voilà, eccolo qua, appena preso, raga, ho raddoppiato anche le mie caramelline, una schifezza, che dubal! Allora, raga, abbiamo due missioncine, mettiamoci qua, comodini, dovrebbero essere di quattro huevos, vediamo un attimino, attenzione, attenzione, cosa ho sentito qua, Evi, porca misera, lo troveremo, lì troveremo, perché quanti dobbiamo trovarne di questo Evi, cacchiarola, raga, shiny, con questi nuovi fiorellini, eh, tatatà, boh, facciamo i check shiny, qua che abbiamo anche lui, eh, wish, wish... no niente niente dopo allora il cutie me lo catturo dopo raga sperando che non despona prima prima doi 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 censi normale seconda seconda ho trovato anche un'altra missione di censi raga che appunto dovrebbe essere questa qua di 4 wavos se ricordo bene no ancora rosa bomberoni prima un'oretta fa ho schiuso anche questo snizel uovo da 7 km che avete visto che ogni tanto ormai faccio la cappellata di andare a raccimolarne alcuni dai pacchetti amicizia la porca di quella miseria e allora ho schiuso questo qua che però fa schifo raga ho intenzione di fare la sua evoluzione essendo che non l'ho ancora fatta quindi vediamo un attimo allora questo qui va bene facciamo facciamolo questo qua è l'ultimo raga ma io andrei a fare questo che almeno è un 15 perché dopo gli altri sono shiny lì e roba varia no non ce n'è altri non ce n'è altri facciamo 11 53 che è anche quello più alto in no ma non posso farlo percorri 7 km no ma non posso farlo raga ma no è vero è vero che loro hanno sta pecca porca miseria c'è il sole quindi potrei far l'evoluzione però devo metterlo come compagno e fare 7 km diamine palestra appena sconfitta farmiamo un po' di monete raga farmiamone perché ce ne saranno bisogno e ce ne saranno bisogno visto anche l'aumento di questi pass da remoto comunque sia il gioco raga non è assolutamente morto è il gioco non si basa sui raid e quindi fateci un pensierino fateci un pensierino io andrei a mettere un bel cromatio ditto mettiamo di do il pampur eccolo qua la scimmiettina che bella raga che bella che dovrebbe essere quella del continente asiatico se ricordo bene bellissima bellissima giriamoci il pokestop huevos dovrei già essere a posto abbiamo una scimmiettina guardate la quale scimmiettina nostra questa qua è della nostra del nostro territorio possiamo dire il nostro regionale vediamo qua se abbiamo qualche shainino raga che esce magari così o la sprovvista l'ultimo no 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 niente niente abbiamo anche qua dietro anche qua dietro ma wishmur l'abbiamo già trovato widel trovato più o meno una settimanella fa quindi non mi interessa vediamo le huevos come siamo messi raga dai ci siamo quasi ok raga huevos da 5 chilometri pronte pronte finalmente cioè sembravano da 10 da 12 chilometri ancora un po non mi interessa non mi interessa ed è qualcosa di possibile shainio però magari anche un bel 100 raga sarebbe apprezzato dai 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 vediamo un po bonsli lui mi piacerebbe shaini ebbe ebbe andiamo con la terza terza shingling no lui assolutamente no ne ho a bizzeffe ultimo ti roghe eccolo qua porca ogni volta ogni volta sto cacchio di ti roghe quindi nada 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 mettiamone altre raga mettiamone altre comunque sia ho messo anche la roma avventura lo termino mentre andiamo avanti raga comunque se mi sono accorto le altre huevos ma dove cavolo sono si sono già schiuse si sono già schiuse dove sono dove saranno queste qua manchlax azzurri il manchlax e eppini erano quattro infatti niente shaini ammazza che patatrack raga una schifezza una schifezza assoluta cioè è veramente da adesso io non so quando avevo catturato il mio moltres di galar raga forse forse è già passato un mesetto però dopo di lui uno schifo uno schifo ma non un pokemon che si salva raga veramente una schifezza assoluta abbiamo qua comunque sia tre missioni eccole qua che le ho tenute andiamo con la prima andiamo con la prima dai dai vediamo se scugliamo censi ancora normale seconda seconda dai che magari porta più fortuna papatokitik normale anche lui mentre l'ultima l'ultima dai 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 censi ma rosa bomberoni in mezzo allo speraglio di luce guardate cosa ho qui pam non ci posso credere ho fatto un ride qua dietro ho invitato anche oscar stranamente che non è uno shiny da pavia perché di solito gli anni scorsi raga solamente shiny composizione pavia infatti grazie mille oscarone stavolta però magari che quest'anno raga vedete oscar vedi che magari adesso gli shiny te li do io composizione qua da me appena catturato eccolo qui 847 punti lotta che bellino raga che bellino mi sembra che il mio secondo con i fiorellini con questa coroncina di fiori sempre che diversa una scarpone da schifo però dai che bellezza censi shiny appena effettuato un ride di lugia raga grazie mille grazie mille degli inviti vediamo 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 dai dai che lecchio è normale 20 85 ok ultime huevos per oggi raga 555 speriamo bene dai speriamo uno shiny chiedo un qualcosa di interessante non è che porca di quella miseria su uno shundo è manchlax ce l'ho già è comunque sia ho controllato prima raga manchlax shiny forse l'avevo trovato l'anno scorso comunque sia già registrato shiny decks apprezzato live lui apprezzatissimo apprezzatissimo siamo a caccia di qualcosa di forte poi dobbiamo farmare anche un po' di caramelle avete visto 21 l uivi almeno un ivi scroma scromatico così raga sarebbe bellissimo bellissimo dai ultima forse siamo già l'ultimo chiutti dai va bene va bene il chiutti abbiamo detto che va bene eccole lì caramelle caramelle l sac no 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 riolo ma riolo raga una cosa impressionante non esce mai non esce mai ce ne abbiamo trovato internet non disponibile boh non lo so raga comunque sia non esce mai ne abbiamo trovato solamente uno 93 per cento eccolo qua speriamo che il prossimo che ci esca raga magari anche più alto di 93 per cento ma lo vogliamo cromatico allora bomberoni ho appena valutato un po' tutte le schiusi che abbiamo fatto stranamente non c'è niente di buono lo sapete che chiaramente io non mi fermo qua andrò a raccimolare altre huevos ma adesso ne ho prese già altre raga ne ho trovate ben tre da dieci chilometri porca miseria quando si quando si cercano non si trovano adesso che voglio quelle da due no mi dà quelle da dieci o quelle da cinque però dai tutto sommato lo shiny anche oggi l'abbiamo portato a casa e che shiny raga esclusivo poi censi veramente uno spettacolo fatemi sapere voi allenatori se vi siete portati a casa avete trovato magari anche voi un bello shiny esclusivo dell'evento e per oggi raga dai gamer joe è veramente tutto mi raccomando l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like gamer joe vi saluta e ci vediamo alla prossima ciao bombers